Telemolise nel cuore, il gran galà di Domenica Sport, domani la settima edizione della trasmissione condotta ed ideata dal direttore Antonio Di Lallo. Ancora una volta la famiglia Damiano aprirà le porte della sua struttura. La sala a ricevimenti del ristorante Coriolis si trasformerà in un palcoscenico per ospitare Telemolise. Il nostro staff tecnico è già al lavoro in sinergia con la music service di Antonio Ziccardi che curerà l'allestimento audio-video e la DAG service di Giancarlo Di Corpo e Figli per le luci. Anche quest'anno ad impreziosire la scenografia Euroflora di Jessica e Vittorio Melone. Come sempre andremo a premiare le realtà imprenditoriali locali che hanno investito sul territorio regionale. Non mancheranno i premi sportivi con società e atleti che si sono contraddistinti nella passata stagione agonistica. Durante la serata ricorderemo anche un amico della nostra redazione e un grande uomo di sport. Poi naturalmente spazio ai premi del sociale molisani che si sono ritagliati il loro posto nel panorama regionale e c'è chi ha avvarcato i confini regionali e nazionali non dimenticando mai le proprie origini. La serata vedrà l'esibizione di tanti artisti molisani. La redazione sportiva ha scelto una varietà di spettacoli per accontentare il vasto pubblico della nostra emittente. Special guest Johnson dei Righiera, una scelta mirada del nostro staff che vuole far trascorrere al nostro pubblico una serata di allegria e spensieratezza come lo sono i tormentoni musicali dei Righiera. Domani a partire dalle 20.10 in onda Tele Molise nel cuore. Il Gran Gara di Domenica Sport.